La situazione è molto delicata, sono stati sentiti tutti i testimoni, le indagini sono in corso e preferisco non dire nulla. Così il presidente Donato Toma in consiglio regionale questa mattina sulla presunta aggressione verbale subita venerdì in pieno centro a Campobasso, mentre era a pranzo con il collaboratore Maurizio Tiberio, che invece ha avuto la peggio riportando delle ferite al naso dopo una colluttazione con uno dei due giovani al centro di una vicenda su cui sta indagando la Digos di Campobasso. E ribadisco quanto risposto in aula, non è opportuno intervenire su un'indagine in corso e non è opportuno ingigantire in questo momento, con i toni che la politica oggi, nomi soggetti che non sono abituati ad assurgere ai cosiddetti onori delle cronache, quindi un po' di riservatezza e abbassiamo i toni. Vicenda finita nell'aula di Palazzo Daimmo con il Movimento 5 Stelle che ha presentato un'interpellanza chiedendo al governatore di spiegare cosa è accaduto, di allontanare il collaboratore e di conoscere quale codice sia stato assegnato a Tiberio una volta raggiunto il Cardarelli. A noi quello che ci interessa è il dato politico, a noi ci interessa che il presidente della regione venga in aula a dirci che cosa è accaduto, perché è impensabile che la più alta figura istituzionale della regione emulisi appunto sia coinvolta in un episodio di violenza. Noi lo riteniamo assolutamente inaccettabile e abbiamo chiesto, mediante un'interpellanza, quando allontanerà Maurizio Tiberio in via precauzionale naturalmente dalle istituzioni, non perché noi vogliamo condannare anticipatamente questa persona, ma semplicemente perché mentre vengono accertate appunto queste eventuali, ripeto, responsabilità, riteniamo che per la serenità di tutti il collaboratore personale debba essere appunto momentaneamente sospeso. I 5 Stelle, con un altro documento illustrato all'aula da Primiani, hanno altresì chiesto la revoca della delibera di giunta che dà mandato all'avvocatura di querelare una giornalista collaboratrice di un consigliere regionale per un commento su Facebook. Chiediamo che venga revocata quella delibera di giunta, perché altrimenti il Presidente della Regione dovrebbe querelare almeno 20.000 persone al giorno, che sono tutti i cittadini molisani che frequentano il web e che ormai contestano in ogni dove l'operato sia politico che tecnico-amministrativo del Presidente Toma.